Grazie Mario per l'invito, ringrazio l'AIL nazionale, l'AIL di Udine, ringrazio i volontari che anche a Trieste, dove abbiamo una sezione AIL fondata 5-6 anni fa, stanno facendo un lavoro veramente egregio e ci danno la possibilità di avvicinarci ancora di più alle problematiche del paziente. Sono perfettamente d'accordo con quanto hanno detto i volontari del gruppo del mirofibrose, che questi sono incontri che aiutano anche i medici per rimanere con i piedi ancorati per terra e ricordarsi che i problemi dei pazienti non sono solamente scientifici ma sono anche di ascolto e spesso di carattere di presenza e di capacità di risposta. Questo per noi è molto importante anche ricordarcelo, forse dovremmo fare più spesso questi incontri. Mi ha affidato il compito di parlarvi brevemente della mirofibrosi, appartiene come abbiamo visto alla famiglia delle malattie miroperiferative croniche e filadelfia negative. È una malattia che, diciamo così, è ancora più rara rispetto alla policitemia e alla trombocitemia. Calcoliamo più o meno in regione all'anno 10-15 nuovi casi. Colpisce persone un po' più anziane, diciamo così tra virgolette anziane, metà media si è 65 anni, quindi in età un pochino più avanzata rispetto alle altre due patologie. Ed è una malattia che sicuramente coinvolge il medico, ma questo passi naturalmente, ma coinvolge soprattutto il malato in maniera più profonda spesso. Nel senso che il paziente è costretto a visite più frequenti, è costretto a biopsie più frequenti qualche volta, è costretto a terapie di supporto non certo agevoli, tra cui anche la banale trasfusione che lo costringe ad accessi ospedalieri più frequenti. Qual è il, diciamo, il tema principale patogenetico della malattia? Abbiamo già visto e toccato questo argomento nelle relazioni che mi hanno preceduto. La fibrosi midollare, guardiamo solamente questa immagine in alto a sinistra per non complicarci troppo la vita, la fibrosi midollare è la causa della malattia. Cioè, a differenza delle altre patologie che abbiamo visto in precedenza, il midollo in questo caso è occupato quasi interamente, a seconda delle fasi della malattia, da tessuto fibrotico. Tessuto fibrotico che viene stimolato molto probabilmente dai precursori delle piastrine che secernano delle sostanze che si chiamano interleuchine e che vanno a stimolare i fibroblasti. I fibroblasti sono delle cellule non tumorali, diciamo così infiammatorie, che determinano un accumulo di materiale inerte che è la fibrosi midollare. Questa fibrosi non fa altro che occupare gli spazi, diciamo così, produttivi del midollo, determinare una incapacità del midollo di produrre cellule funzionanti e di conseguenza di impoverire il sangue periferico di globuli bianchi, di globuli rossi e piastrine. Quindi una condizione che apparentemente è l'opposto delle malattie di cui abbiamo sentito parlare in precedenza, quindi prima abbiamo visto molte piastrine in circolo, molti globuli bianchi e globuli rossi. In questo caso abbiamo una situazione del tutto opposta in cui la presenza di cellule funzionanti nel sangue periferico è molto bassa. Non solo, ma il midollo, in questa fase, diciamo, di emopoiesi inefficace, quindi di incapacità di produrre cellule funzionanti, immette nel circolo sanguigno cellule, diciamo così, precursori, cellule immature, che si ritrovano e si possono anche contare nella circolazione periferica. Alcune di queste cellule perdono in qualche modo l'orientamento e vanno a svilupparsi in organi che, nelle persone normali, sono organi che non funzionano come organi emopoietici. In particolare la milza. La milza è occupata, come abbiamo già visto, da cellule che fungono da precursori delle emopoiesi e tentano di vicariare l'attività del midollo, che in questo caso è quasi assente. Sapete che ci sono varie condizioni di esordio della malattia. Alcune persone esordiscono con una mielofibrosi primitiva, quindi la malattia viene diagnosticata inizialmente come tale. Condizioni più rare sono l'evoluzione della policitemia o della trombocitemia in mielofibrosi. Sono condizioni, ribadisco, piuttosto rare. Cosa facciamo dal punto di vista diagnostico? Ripeto un po' alcune cose che sono dette già in precedenza. La clinica, importantissimo, l'anamnesi, ascoltare il paziente, visitare il paziente, raccogliere più informazioni possibili della sua storia clinica. L'emocromo, qui non l'ho messo, ma insomma mettiamolo qui in mezzo. L'emocromo è fondamentale per valutare la presenza di citopenie, quindi la presenza di una scarsezza di globuli bianchi, piastrine o demoglobina. E poi indagini più raffinate che sono la valutazione di alcune possibili presenza di mutazioni molecolari e da ultimo, ma non da ultimo, l'obbligatorietà di eseguire almeno all'inizio, almeno alla diagnosi, nei casi sospetti, una biopsia osteomidollare. I sintomi, ecco, per quanto riguarda i sintomi, il mielofibrosi, devo dire che la malattia, tra le tre malattie che abbiamo sentito, è quella che dà più disturbi. Dà più disturbi perché i disturbi, diciamo così, pur a specifici ma costituzionali, sono presenti quasi sempre. E' ovvio che i disturbi legati all'anemia sono quelli che conosciamo, la stanchezza, mancanza di respiro, diciamo una situazione di debolezza generale. La splenomegalia, presente praticamente sempre, di vario grado, può determinare dolore, può determinare sensazioni di ripienezza, disturbi dell'appetito, calo ponderale, quindi disturbi importanti che sicuramente modificano la qualità di vita del paziente. Sintomi costituzionali, il prurito qui è messo un po' in piccolo perché in realtà rispetto alla policitemia c'è, ma non è così, non è così, diciamo così, coinvolgente. Però ci sono altri sintomi costituzionali che sono la perdita di peso, che sono la febbre, che sono le sudorazioni intense, quindi una situazione sicuramente molto coinvolgente. Per quanto riguarda questi sintomi così, diciamo che vedete nella parte esterna dell'immagine, sicuramente sono persone che vanno incontro a rischi sia trombotici che emorragici, a infezioni dovuti al calo dei globuli bianchi, a dolori ossi proprio per il fatto che l'osso, la parte osteomidollare, è in fase, diciamo, fibrotica e questo può determinare anche questo, una sintomatologia dolorosa dello scheletro. Qui alcune immagini che avete già a parte visto, a sinistra in alto una milza normale, una milza più ingrandita, in basso a sinistra la visita del medico che deve essere fatta regolarmente per valutare palpatoriamente il polo splenico inferiore della milza. A destra due immagini radiologiche, qui vedete un'attacca, un attacca un po' estrema, diciamo un caso un po' estremo, però tutta questa immagine bianca che vedete a sinistra, questa è la milza che occupa praticamente tutto l'emioddome di sinistra. Questa qui è meno comprensibile, è un esame ecografico, anche questo è estremamente utile e anche più semplice da eseguire, che può calcolare il diametro e il volume della milza, l'eventuale risposta alla terapia. Beh, le analisi di laboratorio sono quelle che abbiamo visto in precedenza e vediamo l'anemia è sicuramente presente in quasi tutti i casi, è legata a questo termine che è l'eritropoiesi inefficace, l'incapacità del midollo di produrre globuli rossi attivi nel circolo sanguigno, ma può essere dovuta anche ad emorragie digestive, queste sono persone che hanno tendenza ai fatti emorragici, oppure la stessa milza può catturare i globuli rossi, modificarli di forma ma anche distruggerli e quindi determinare un'anemia secondaria. Ecco, questo vale la pena di soffermarsi un attimo, le mirofibrosi possono anche esordire, come molti di voi penso sanno, con iniziale piastrinosi, questo può portare anche in alcune situazioni a, diciamo così, disorientamenti diagnostici che possono succedere. Nelle fasi più tardive le piastrine si riducono, così può avvenire anche per quanto riguarda l'aumento dei globuli bianchi. Questo dato qua, ve lo ricordo, in alcune, diciamo, condizioni, si va a contare il numero di precursori circolanti che il midollo fa entrare nel circolo sanguigno. L'allattico di idrogenasi, spesso vedete i vostri esami che contengono questo enzima, è un enzima a specifico che però nel paziente con mirofibrosi aiuta per valutare, diciamo così, la gravità della malattia. Questo è uno striscio periferico solo per mostrarvi quante cose si possono leggere anche dal sangue, da un vetrino fatto dal sangue periferico. Vedete che queste immagini più chiare, questi pallini, sono globuli rossi, tutti deformati, tutti diversi uno dall'altro. Alcuni di questi hanno una forma a goccia o a lacrima e sono abbastanza caratteristici della mirofibrosi. Il globulo rosso penetrando nella milza si modifica dal punto di vista morfologico e ne esce, diciamo così, alterato. Questa alterazione fa in qualche modo sospettare, non è che sia diagnostica, ma fa sospettare la malattia. E poi ci sono delle grosse cellule più scure, che sono dei precursori della granulopoiesi, spesso che non possono venire trattenuti nel midollo, vengono in qualche modo immessi nel sangue periferico. Ecco, come dicevo prima, ci sono due tipi di esordi della malattia, una fase iniziale, prefibrotica si chiama, quindi dove c'è una intensa piastrinosi, spesso l'emoglobina e i leucociti sono normali, e il midollo mostra un'attenue fibrosi. Quindi la diagnosi è in questi casi non sempre facilissima. Ho ascoltato con attenzione il problema del nostro volontario che ci ha ricordato, che spesso la diagnosi iniziale può, se non in mani esperte, portare anche fuori strada. La fase invece più conclamata è la fase propriamente fibrotica, dove il paziente sta molto male, i sintomi generali sono molto frequenti, c'è una pancitopenia, quindi un calo di globuli rossi, bianchi e piastrine, e una fibrosi del midollo molto evidente. Come si valuta la gravità della malattia? Ci sono vari indici prognostici, non mi soffermo, ma solamente vi ricordo che questi indici prognostici sono abbastanza facili da, diciamo così, da riconoscere, perché riguardano l'età, ahimè, l'età, diciamo, superiore ai 65 anni non è un bene per il paziente. I sintomi, è chiaro che un paziente che ha numerosi sintomi costituzionali ha un futuro più difficile, così come se il paziente ha un'emoglobina bassa, se ha i globuli bianchi alti, o se ha delle cellule, diciamo così, tumorali, nella circolazione sanguigna, e se ha le piastrine sotto i 100.000. Per quanto riguarda, ma qui non mi soffermo, le mutazioni molecolari, quelle che si, quelle, le mutazioni che vanno ricercate sono la mutazione JAK2, la mutazione CARL e la mutazione MPL, quasi la metà dei pazienti sono JAK2 positivi, una fetta del 30% sono CARL e Ticulina positivi, poi c'è una fetta piccolissima di pazienti con mutazione MPL, e una fetta ancora più piccola di tripli negativi, come diceva la dottoressa Concia, un termine un po' così, non felice, ma insomma triplo negativo, nel senso che hanno tutte e tre le mutazioni assenti. Questo ci permette un po' di valutare meglio quello che è il futuro del paziente, il futuro del paziente, che non deve essere preso con, diciamo, deve essere preso con, valutando il paziente nel suo complesso, ovviamente. Vedete che, giusto per farvi un esempio, è l'unico esempio che vi faccio, i pazienti che hanno una mutazione della CARL e Ticulina hanno un futuro migliore. Paradossalmente, i pazienti tripli negativi, per motivi che ancora non si conoscono, hanno un futuro peggiore. A destra, invece, la valutazione, diciamo, del futuro dei pazienti, in base a quegli indici che vi ho mostrato prima, cioè i sintomi, l'età, i globuli bianchi, le piastrine. È chiaro che chi non ha disturbi, ha l'emoglobina superiore a 10, ha le piastrine normali, eccetera, eccetera, sono pazienti che hanno un futuro sicuramente più leggero. Non mi soffermo poi sulle altre valutazioni, diciamo, e sulle altre curve. Le complicanze, rapidamente, le complicanze sono tante, sono tante e devono essere attentamente valutate e previste laddove è possibile. Sì, certamente c'è questa barra qui, che è una barra sicuramente piuttosto lunga, però non possiamo non mettere, diciamo così, in qualche modo, a conoscenza con tutte le dovute cautele il paziente, che c'è questo rischio. C'è questo rischio e quindi, di fatto, il monitoraggio della malattia deve essere molto stretto. Cosa si fa per la terapia? Dunque, la terapia è orientata verso la terapia dell'anemia, la terapia della spremomegalia, l'utilizzo, vediamo, degli inibitori della mutazione e come ultimo il trapianto imidolo allogenico. Beh, parto dal basso e vi ricordo che il trapianto imidolo allogenico, seppur in una percentuale ai pazienti, molto ristretta, è l'unica terapia, di fatto, oggi, che può risolvere completamente la malattia. Questo va detto e questo, penso, immagino lo sappiate. Grosso raramente, ci sono persone, pazienti a basso rischio, a basso rischio, a sinistra, che fanno solamente osservazione nel tempo, nella speranza che la malattia rimanga a basso rischio. ci sono via via verso destra, pazienti con rischi via via superiori, alcuni di questi, se sono sintomatici, devono fare una terapia tradizionale, altri, quelli a rischio più elevato, possono fare terapia tradizionale, una piccola parte può e deve essere avviata al trapianto imidolo allogenico. Cosa si fa per l'anemia? Per l'anemia si utilizzano farmaci o trasfusioni laddove è necessario, dove è necessario vuol dire eboglobine che sono in genere inferiori al 9 grammi decilitro più o meno, poi dipende dal paziente, dipende se il paziente è un cardiopatico, dipende da quanti anni ha, ma diciamo che l'anemia va trattata al di sotto dei 9 grammi decilitro. L'editropoietina viene utilizzata anche se di fatto nella vita reale l'efficacia è piuttosto limitata, va sospesa se dopo tre mesi non funziona. L'abbinamento cortisone-talidomide sì, in qualche rara occasione si è dimostrato utile, la talidomide è un farmaco utilizzato nel mieloma multiplo, efficace, in questo caso si presume che sia efficace perché in qualche modo agisce sull'irrorazione della milza e determina in alcuni casi una riduzione della milza e un miglioramento dell'anemia. Questo è un farmaco diciamo più moderno rispetto alla talidomide ma viene limitato l'uso solo in alcuni pazienti portatori di alcune anomalie citogenetiche. È chiaro che l'emotrasfusione è tuttora una terapia di supporto fondamentale, non mi dilungo. La terapia ferrochelante ha lo scopo di ridurre gli accumuli di ferro nell'organismo dei pazienti politrasfusi e quindi di ridurre il rischio di danni da ferro da depositi di ferro. Cosa si fa per la terapia della spremomegalia? Farmaco principale è la vecchia oncocarbide che a dosaggi anche in alcuni casi anche elevati tipo 2 grammi al giorno determina una riduzione del volume splenico in circa un terzo dei pazienti e questo determina un sollievo dal punto di vista della sintomatologia ma questa riduzione di volume è spesso transitoria. La splenectomia una procedura chirurgica quasi del tutto abbandonata perché non determina e non determinava diciamo un miglioramento della qualità di vita del paziente anzi una procedura chirurgica rischiosa anche nel post chirurgico viene utilizzata in alcuni casi nella fase pretrapianto e midollo allogenico la radioterapia abbandonata quasi completamente in radiazione splenica che si utilizza come diciamo ultima possibilità laddove la milizia è veramente grande e determina una sintomatologia importante al paziente anche qui buona risposta iniziale ma di breve durata sul farmaco di cui abbiamo sentito parlare prima quindi gli inibitori dell'inibitori della GIAQ2 attualmente in commercio all'uxolitini mi spenderò poche parole è un potente farmaco selettivo che agisce sulla mutazione GIAQ2 sulla mutazione GIAQ diciamo ha una capacità di ridurre in circa il 30% dei casi il volume splenico e di dare beneficio e diciamo sollievo dal punto di vista sintomatico ai pazienti ha una capacità di ridurre parecchi sintomi costituzionali essenzialmente in alcuni casi come abbiamo visto prima il prurito le sudorazioni intense la sensazione di sazietà quindi il paziente indubbiamente sta meglio con la terapia durante i primi mesi di terapia può avere un effetto paradosso per quanto riguarda l'anemia in alcuni casi i pazienti presentano un peggioramento ma transitorio del valore di emoglobina che in una percentuale diciamo del 50% poi risponde in maniera abbastanza adeguata quindi farmaco importante sicuramente importante da utilizzare con attenzione che non dà una risoluzione completa del problema ma che può dare in casi selezionati un netto miglioramento di qualità della vita non dimentichiamo che il farmaco è teoricamente tossico come dicevo prima nelle fasi iniziali può determinare un aggravamento dell'anemia e della piastrinopenia di fatto transitorie non mi soffermo sulle posologie finisco ho già ho finito questa è l'ultima diapositiva solo per ricordarvi che l'indicazione della trapianta di midollo allogenico quindi da donatore familiare o da registro compatibile è una procedura da prendere in considerazione non certo scusate va bene lo dico a voce non certo nei pazienti a basso rischio quella prima scusi ecco non certo nei pazienti a basso rischio che non hanno indicazione al trapianto di midollo va preso in considerazione nei pazienti ad alto rischio qui è scritto fino a 70 anni ma sono pazienti ripeto molto selezionati non tanto per età quanto per condizione generale comorbidità sintomi diciamo costituzionali e varie altre cose i pazienti a rischio intermedio hanno potenzialmente un'indicazione al trapianto di midollo l'età è questa sono pazienti che hanno un'alta trasfusione dipendenza ma non hanno un'evoluzione blastica diciamo blasti nel sangue periferico quindi anche questi pazienti fortemente selezionati io vi ringrazio molto con questo ho finito un'evoluzione Grazie a tutti.